Una doppia iniziativa per celebrare i 150 anni della nascita dello scrittore bellariese Alfredo Panzini. Si parte col premio giornalistico nazionale che giunge alla terza edizione. Le prime due sono datate 1963, anno del centenario e 1965. È stato proprio questo l'obiettivo che ci ha mossi, cioè quello di riprendere il glorioso premio giornalistico Alfredo Panzini promosso dall'azienda di soggiorno di Bellari Giamarina nel 1963 con una sola aggiunta da parte nostra che è stata quella di focalizzare questo premio sul tema del viaggio e in particolare del viaggio in bicicletta che è la caratteristica diciamo più nota e riconosciuta di Alfredo Panzini. Giornalisti professionisti e pubblicisti potranno presentare i propri lavori entro fine luglio. Il premio è di 2000 euro, a giudicarli una giuria di nomi illustri tutti presenti a titolo gratuito capitanata da Sergio Zavoli che si aggiudicò la prima edizione del premio col documentario Panzini a cent'anni. In questi giorni il ricordo di Panzini va poi oltre Bellaria. La sua figura sarà ricordata da studiosi e professori in un convegno in programma fino a domani che si svolgerà nel liceo Foscarini di Venezia dove Panzini studiò negli anni 70 dell'Ottocento. Nei registri del liceo si legge ancora di un ragazzo brillante ma quantomeno vivace. Questo appuntamento nasce quasi casualmente da chi ha letto i libri di Panzini e ha riportato la memoria che Panzini ha studiato a Venezia. La grande disponibilità dei professori del liceo dove Panzini ha studiato ha portato a questo rapporto con l'Accademia e con l'amministrazione comunale. Stiamo valorizzando tantissimo, da tanti anni la nostra città pensa a Panzini, ha ristrutturato il parco, ha ristrutturato le case, le pertinenze, luoghi ideali per ritrovarsi sia durante la primavera, l'autunno ma anche per i nostri ospiti d'estate.